Maria Vittoria quando arrivò qui aveva delle forti stereotipie, disegnava le principesse, diceva, ma ancora oggi lo fa questo. E poi grazie anche all'influenza, in questo caso positiva, speriamo, del posto, ha incominciato a rivolgere la sua attenzione soprattutto al mondo botanico, le piante, ai fiori. E spesso guarda quello che succede qui e lo digerisce a modo suo, lo risentitizza attraverso il suo segno. Maria Vittoria ha una grande capacità colorativa. A me piace moltissimo, ha un gusto estremo per il colore, ha proprio delle intuizioni sul colore che sono notevoli. Questi colori contrastanti, c'è un uso del colore fantastico Maria Vittoria. Cioè lei utilizza proprio uno schema di accostamento cromatico, che è perfetto, cioè proprio come bilanciamento, come composizione funziona. Questi gialli assieme a questi viola, arancioni, molto pesanti, no? Questo uso dell'acrilico proprio che si vede sopra il foglio. Questi taglinetti di queste figure che raffigurano qualcosa, ma te, appena le vedi, appena le vedi, dici astratto. Ha proprio una modalità di scomposizione, di accostamento dei colori e delle forme, per cui poi, diciamo, ogni materia contrasta con l'altra, ma sempre comunque in armonia, cioè riesce sempre a tenerle su quel piano lì. I suoi fiori sono dei fiori fantastici, ma nello stesso tempo l'essenzialità che raggiunge Maria Vittoria danno a questo fiore, come dicevo prima, un qualche cosa di simbolico, di archetipo, che va al di là del fiore stesso. E quando guardo un fiore di Maria Vittoria non guardo soltanto il fiore. È un'esperienza, è un'esperienza proprio sulla condizione stessa dell'essere umano in relazione a tutto quello che lo circonda. Allora, provvisto di occhi vai, no? Piccola guida sull'immaginario botanico, opera realizzata da Maria Vittoria Basciani e Giulia Cabassi, è stato il nostro primo, diciamo, libero fatto a quattro mani, tra due artisti appartenenti a, chiamiamole così, a dimensioni diverse, uno dello spettro autistico e l'altro una persona neurotipica. Il libro di Maria Vittoria e Giulia rappresenta un po' e comunica all'esterno quello che avviene all'interno di questo spazio, quindi questa relazione tra un artista neurotipico e un artista autistico, lo studio a vicenda delle opere l'una e dell'altra, quindi in questa fase c'è stata Giulia che, vedendo Maria Vittoria lavorare, affascinata dalle sue opere, ne ha preso spunto e l'ha studiata praticamente, mettendole quasi dentro un catalogo, quindi come se fosse proprio in forma scientifica. e rimane affascinata dai disegni di Maria Vittoria, è così che sono soprattutto fatti da fiori, da una botanica fantastica, e lei si mette nei panni di un botanico che scopre per la prima volta questo fiore e ne incomincia a studiarlo, e comincia a studiarlo e a analizzarlo, tant'è che tutto il libro, vedete, c'è l'impaginazione quasi di un quaderno scolastico, di un quaderno di appunti. Sulla destra ci sono i lavori di Maria, sulla sinistra perché ci sono i lavori di Maria Vittoria, e sulla destra i lavori di Giulia, che nascono dallo studio dei disegni di Maria Vittoria. La bellezza di questo libro e dei libri che facciamo è che porta le persone ad osservare le cose da più punti di vista. Poi in un momento anche della nostra società, dove si dibatte in continuazione fra inclusione, fra l'accoglienza dell'altro, del diverso, io penso che queste operazioni siano di straordinaria importanza, perché dimostrano che attraverso il dialogo, attraverso un approccio diverso, un approccio, come si può dire, curioso, un approccio non identitario, un approccio dove si mettono in discussione i propri confini, le proprie pratiche, per incontrarsi in un punto di incontro, ma l'insieme di questa dimensione dovrebbe superare la stessa dimensione, nel metterla insieme, per arrivare a qualcosa di nuovo. Sicuramente Ultra Blu, da quello che sappiamo, è una cassa editrice che pubblica autori dello spettro autistico. Penso che siamo probabilmente gli unici, perché con la precisazione che i libri sono veramente fatti da loro. Noi non tocchiamo come nel disegno e nell'opera d'arte, non interveniamo in alcun modo nella nascita di questi libri. L'unico nostro lavoro è quello di impaginazione, e nell'utilizzo di software che loro non sono in grado di utilizzare. In più, ultimamente, da dicembre, sta nascendo una collana nuova dove sono libri che vengono creati a quattro mani, fra un autore outsider e un autorice insider, chiamiamolo in questo modo. Questo perché ci sono due motivi. Uno perché, secondo me, l'incontro fra queste due dimensioni aiuta l'arte e l'editoria a rinnovarsi in qualche modo. Noi vogliamo dimostrare che l'incontro fra queste due dimensioni aiuta a rinnovare anche il linguaggio proprio dell'editoria illustrata e dell'arte in generale, perché fa bene a questo. Hoي. Hoi. 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 Grazie a tutti